Con Sebastiano Failla, coordinatore cittadino di azione, facciamo un po' il punto di alcune cose che stanno succedendo in città partendo proprio da quello che si è appena consumato al Consiglio Comunale, l'ultimo consiglio utile in cui si doveva affrontare il piano spiagge. Qualche giorno prima azione proprio, intervenuto con una presa di posizione piuttosto forte per dire attenzione, in questo momento non c'è un'amministrazione, c'è un commissario, non si può approvare un piano spiagge in queste condizioni. Dobbiamo dire che forse hanno ascoltato il vostro appello, fatto sta che comunque è venuto meno il numero legale e a questo punto è stato rinviato per cui sarà la futura amministrazione ad occuparsene. Sì, il piano spiagge è stata una delle nostre battaglie, diciamo all'inizio ci affacciamo oggi al panorama politico della città, il partito nasce in questi momenti non per affrontare le elezioni ma per impostare una politica di prospettiva e proprio per questo il piano spiagge ci sembrava che essendo stato presentato dal commissario non era il caso all'ultimo giorno, all'ultimo consiglio utile di approvarlo perché pensiamo che sia uno strumento estremamente utile per lo sviluppo turistico, che sia uno strumento che va ragionato, approfondito e discusso sulla base di interessi generali che vanno tutelati e soprattutto nell'interesse della città il piano spiagge che durerà poi per molti anni e doveva essere un contributo completo del consiglio comunale. Abbiamo visto che coordinando l'opposizione insieme ai segretari degli altri partiti dell'opposizione e ai nostri consiglieri a cominciare dal consigliere Agosta che ha aderito al progetto di azione siamo riusciti a mettere le condizioni affinché il numero cadesse perché la maggioranza non ha saputo neanche organizzarsi in questo senso, probabilmente non credeva neanche lei al piano spiagge e quindi siamo contenti del risultato politico ottenuto, cioè quello di mettere le condizioni affinché il prossimo consiglio comunale, quindi tutta la città e la prossima amministrazione possano confrontarsi e approfondire uno strumento che riteniamo utilissimo per il futuro turistico della nostra città.